Buongiorno, buonanotte, o quello che è, insomma, tale quale è finito? No, non è finito, insomma, è finita la decima edizione, il torneo della decima edizione, da venerdì partire il torneo 2020 con i quattro protagonisti della scorsa edizione. Decima edizione, finita stasera, dopo sei settimane, the winner is Pago, eccolo qua, Pago che si ritrova a casa dopo aver fatto una doccia a festeggiare da solo perché, ahimè, in questo periodo così, ho dovuto fare l'autocertificazione per arrivare dalla RAI a casa e quindi, insomma, è un periodo un po' così, però sono molto contento, molto felice di aver ripagato la fiducia che mi è stata data da Carlo Conti, da tutti gli autori, da tutto lo staff, la relazione, e io volevo ringraziare anche le ragazze del trucco e parrucco, i giudici, tutti quanti, i coach sono stati fantastici, che dire, anche gli amici protagonisti, davvero grazie. Ma l'intenzione mia era di ringraziarvi tutti, uno per uno, ma ragazzi, anche su WhatsApp non ci riesco, pensate un po'. Siete talmente tanti, poi figuriamoci direct qui su Instagram, è impensabile. Quindi sapete cosa faccio? Sono le due e dieci, voglio vedere chi è sveglio, faccio una diretta. Voglio vedere chi è sveglio.